Una canna per ogni tecnica e ogni situazione di pesca, non fatevele scappare. Super novità 2024 di Casa Trabucco per la Trotalago, Trabucco Warden XS, serie di canne composta da 13 modelli, 5 da Tremarella e 8 da Bombarda per gestire al meglio Zavorre da 1 fino a 35 grammi e oltre. Azioni paraboliche e ultra paraboliche come le esigenze di oggi vogliono, canne già nellate con passanti profilo K per ridurre al minimo i grovigli, fusto rivestito in slick surface per agevolare le situazioni di pesca in cui c'è umidità o acqua sulla canna. Dotate di bilanciere per bilanciare al meglio il peso durante l'azione di pesca, parametro suggested use per non sbagliare l'acquisto durante la vostra scelta in negozio.